Tutto bene, tutto bene a 105 Tutto bene, tutto bene a 105 Grazie, grazie, grazie Ho preso 10 punti con questa affermazione No, però, però Sono 50 euro Comunque posso dirvi, ragazzi Settimana lunga Settimana lunga Perché è lunga? Questo programma si chiama Tutto bene a 105 Quindi in teoria noi dovremmo spritzare Ma prima c'è una settimana da affrontare Certo Come è andata? Male